Allora uovo che si rompe e non passa il turno, vediamo, vediamo, vediamo il turno qua, qui c'è, qui c'è, il Chelsea, il Chelsea, il Real, il Chelsea, il Real, vediamo che passa il turno, niente, si rompe il Chelsea, passo il Real, passo il Real, parca miseria, vediamo il sorteggio, vediamo il Bayern, il Bayern, niente, perdi un Bayern, perdi un Bayern, un Bayern eliminato, Milano-Napoli, Milano-Napoli, vediamo che perde, un Napoli, passiamo il Milan, passiamo il Milan, vediamo altro sorteggio, vediamo con le nuove, Inter, Inter e Benfica, vediamo che si rompe, si rompe un Benfica, vai avanti l'Inter, vai in finale l'Inter, altra, altra partita, altra partita, vediamo un Real, un Real così, un Real così, vai in finale, vediamo, vai in finale, usate che si rompe un Real, cose, cose da non credere, e ora l'Inter-Milano, perdiamo il Milan, vai in finale, Inter City, Inter City finale, non credo io, niente, questo non è possibile, vediamo un altro, vediamo, vai, vediamo questa finale qua vinci, niente, fuori questo, fuori questo, ma che è possibile, ma che è, vediamo un altro tentativo, D'altra volta, sempre un Manchester, non è possibile, e ora vediamo che questo canno mi prestai, che questo mi prestai, perché l'Inter, l'Inter vai avanti con questo, ti vediamo, niente, hai la matta Elena, ultimo tentativo, ultimo tentativo, ultimo, ma non è possibile, e ora se si rompe, se si rompe, chi lo usate, eh, perché se non si rompe qua, ho capito che invece i prescritti, vediamo, vediamo, niente, niente, vinciva la finale, vuol dire che non poi, non saranno più prescritti interisti, ma saranno interisti avariati.